Sì, mamma, è una scrivania tutta mia. La scrivania? Dov'è? Lei per me è un mistero. Più la guardo, più non capisco come ci sia riuscito. In che senso? Lei possiede l'innata arte della Costner Experience. Eh? Lara, piacere. Piacere a Piero. Lara è la mia ragazza, devi lasciare stare, capito? Ruggero non funziona. Io sono tuo padre. Ma è uno scherzo. Mi ha invitato un uomo. Sì, hai trastato male una donna. È vero, ma posso spiegare. Ma come pretendi che lei ti ami se tu non ami te stesso? È tutta colpa di Lara, tutta colpa sua. Lara! Covelli, lei ha conquistato tutti. A presto, Sherry. Deci.